Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro HeartCaper, oggi sono qui in questo non-commentary Oggi sono qui per parlare del wiki update che è uscito stanotte, la notte del 31 luglio Che riguarda, come già si era annunciato, la nuova destinazione per The Taken King Dreadnought, la fortezza volante di Oryx che orbita intorno agli anelli di Saturno In questo update non hanno parlato specificamente del ride, ma hanno parlato molto di più della pattuglia Perché, al contrario delle altre, è molto molto più complessa e interessante Sarà molto più grande di tutte le altre pattuglie e ci saranno cose molto più interessanti Parliamo proprio di segreti, di tesori e di boss nascosti anche Un'altra cosa veramente molto intrigante è il fatto che si parli di public events, quindi eventi pubblici Non soltanto come quelli che ci sono adesso nelle pattuglie, quindi qualcosa che capita casualmente Che dobbiamo completare e che ci darà una ricompensa molto molto semplice Ma qualcosa che bisogna scoprire come funziona, bisogna attivarla e che non sarà ovvia subito quando la scopriremo E dovremo anche abituarci a differenti circostanze che ci potranno fare magari azioni diverse in luoghi diversi Si parla anche del fatto che questi segreti ci porteranno via molto molto tempo, anche mesi, per scoprirli completamente E comunque ogni giorno, ogni settimana, ogni mese andremo a riesplorare il Dreadnought per scoprire cose nuove Un pochino come è stata la volta di vetro fino ad adesso, a mio parere Inoltre è stato mostrato Darkblade, il boss di un assalto che si terrà sopra il Dreadnought È una specie di cavaliere molto molto corazzato con un'ascia che secondo me userà in maniera non proprio simpatica La Bungie ha anche detto che essendo il 15 settembre molto molto lontano ci sarà una streaming riguardo il Dreadnought Mostrandoci qualche funzione o comunque qualche meccanismo all'interno della pattuglia Non credo mostreranno ancora il ride perché essendo la parte diciamo più carnosa di tutto The Taken King Penso ce lo lasceranno anche perché essendo un ride enorme penso vogliono farcelo scoprire da soli senza nessun minimo consiglio Inoltre la settimana prossima la Bungie sarà al Gamescom Quindi mostreranno tantissime altre news e tantissime cose interessanti per The Taken King Quindi è caso di rimanere sintonizzati Beh ragazzi questo è tutto quello che devo darvi per questo weekly update Purtroppo non era molto ma penso stiano riducendo molto le news per farci aspettare diciamo fino al 15 settembre Che comunque è lontano ancora un mese e mezzo quindi c'è molto da aspettare però Con il Gamescom e con i prossimi weekly update e con la streaming che ci mostrerà in parte Dreadnought Penso che riusciremo spero a resistere fino appunto al 15 settembre Io come ben sapete ho una app spettacolare Quindi non vedo l'ora veramente di mettere le mie mani su The Taken King e poter fare dei video per voi Vi lascio comunque sempre in descrizione i weekly update e nuovamente il V-Doc per The Taken King Se magari qualcuno se l'è perso vi incostro di guardarvelo perché ci sono cose veramente molto interessanti Se per caso avete soltanto iniziato adesso a guardare The Taken King Io ragazzi come al solito vi invito a lasciare un mi piace Dimmi nei commenti ovviamente cosa ne pensate Perché voglio condividere con voi il mio hype A iscrivervi se non lo siete già E noi ci vediamo in un prossimo video Un abbraccio Alla E noi ci vediamo in un po'